Un piano triennale delle opere da 8 milioni di euro, quello approvato nell'ultimo consiglio comunale di Carmignano di Brenta. Il comune dell'Alta Padovana ha deciso di investire per gli anni 2020, 2021 e 2022 una somma ingente che arriva dal bilancio comunale grazie alle sanzioni stradali e ai finanziamenti di regione e provincia. Il capitolo di spesa più ingente riguarda le piste ciclabili a cui sono stati destinati 4 milioni e 100 mila euro. Si inizia a novembre con il rinnovo della vecchia ciclo pedonale di Via all'Europa e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Soddisfatto il sindaco Alessandro Bolis che assicura che nel 2020 verrà completata anche la costruzione della nuova piscina comunale coperta. A bilancio per il 2022 il nuovo campo da calcio e rugby con gradinate spogliatoie e bar.